Stavo dicendo, noi stavamo in un taglio con me Attenzione a lui c'era la mucca di Aldo e poi Aldo E andiamo? Di qua, di qua La mucca di Aldo e poi Aldo Una persona si avvicina E quanto pesi? Sì Non serve Poi il zizza non serve Continua a camminare Allora come è entrato con tutti di modalità Branco, tranquillo, rilassato Questo è il corretto della miniatura Guarda il collo, che c'è Il collo è di massacriere Guarda Ma tantissimo E' sicuro che non aveva mai ricambulli? Non sicuro Ma io cos'è E' sicuro che non è un corretto della miniatura E' sicuro che non è un corretto della miniatura Continua a camminare Guarda avanti Tu non devi pensare ai cani Com'è la sensazione? Panico Vabbè sei sincera almeno Sono loro che devono dare spazio a te Ok Ma c'è la parte di sinistra del corpo Un po' troppo bene In destra stai più rilassata Com'è? Cammina tranquilla Rilassa Perfetto Vai Pensa qua davanti Cammina Cammina